Si sono protratti per tutto il fine settimana i disservizi idrici a Sciacca scaturiti dalla rottura alla condotta di adduzione che alimenta i serbatoi, tabasi e mura di vega. L'azienda idrica Comuni Agrigentini aveva comunicato venerdì scorso il nuovo guasto specificando che erano stati avviati gli interventi di riparazione e che la distribuzione idrica sarebbe tornata a regolare al termine dei lavori. Soltanto questa mattina e solo in alcune delle zone della città servite dai serbatoi tabasi, mura di vega e Santa Maria si è proceduta all'erogazione. Peraltro trattandosi del centro storico della città di Sciacca in particolare della zona compresa tra San Michele, Cappuccini e Porta Palermo dove diverse abitazioni non sono provviste di capienti cisterne il risultato è stato che le famiglie interessate sono rimaste a secco. Di servizi che oltre alle famiglie saccienze hanno interessato anche alcune scuole della zona. Senza acqua questa mattina sono rimaste la media Inveges e non è la prima volta e il plesso Catusi. L'amministrazione comunale ha proceduto tempestivamente ricevuta la comunicazione dai dirigenti scolastici ad inviare due autobotti. Per fortuna intorno alle 13 l'erogazione è ripresa anche se non in tutte le zone interessate. Ormai costantemente si assiste a guasti agli impianti sacciensi che generano disservizi per giorni. L'assessora ai servizi a rete Valeria Gulotta ha chiesto al sindaco di convocare un incontro con il nuovo direttore generale di AICA Claudio Guarneri. È necessario affrontare la questione dell'impiantistica così come quella delle manutenzioni lungo la condotta idrica. Grazie a tutti.